Cediamo la parola a Don Carlo. Io non ho conosciuto personalmente Don Elia, però oggi, venendo su, ho avuto qualche dubbio. Perché, secolo scorso, mi aveva chiamato Monsignor Micci per fare delle lezioni di esegesi a quelli che erano le vocazioni adulte. E a furia di guardare la faccia di Don Elia nelle fotografie, qualcosa ha cominciato a galleggiare dalla mia memoria. E ho l'impressione che fosse un tizio che se ne stava seduto alla mia destra e ogni tanto sonnecchiava. Vediamo. Comunque, quello che mi è stato chiesto direttamente, anni dopo, è stato da alcuni amici, fra cui Sandro, sua moglie, eccetera, di interessarmi della vicenda. E mi è stato chiesto di fare questo tipo di intervento. Io ho precisato che non sono un teologo. Non lo sono mai stato. Sinceramente non mi dispiace di non essere lo Stato. Mi sono occupato di studi biblici e basta, soprattutto dal punto di vista filologico e storico, ma non ho mai preteso di fare il teologo. Quando io ho detto questo a questi miei amici che mi interpellavano, ho detto che andava benissimo, allora mi sono messo a lavorare. Il lavoro che ho fatto è stato quello di prendere quella visione che avete sentito revocare adesso da Don Elia e di analizzare, per particolare, i referenti possibili della vicenda su fenomeni similari che sono attestati nella storia sacra, con l'intento di constatare la continuità di un'esperienza mistica di rapporto dell'uomo con Dio. e prendendo proprio in esame solamente la prima visione, direi che, a parte forse le virgole, non esiste niente che Don Elia racconti che non abbia un riscontro puntuale nella scrittura. Bene, non mi ero riportato qui tutto il racconto che lui fa della sua prima visione, ma siccome l'avete rivisto adesso è inutile che stia a rileggervelo. Analizziamo qui dei particolari. Primo particolare, una nube bianchissima. Mi piacerebbe sentirlo. Sì, va bene. Allora, una sera, verso le diciassette, mentre ero nella cappella Mater Divina Grazie, con gli altri, Don Elia si trovava all'epoca all'Onigo, nella casa del noviziato dei Gesuiti, Dopo aver detto la corona e fatto la lettura spirituale, mi sento appannare gli occhi, come fossi nella nebbia. Vedo che esce dal tabernacolo una nube bianchissima che si alza lentamente sopra l'altare. Si apre ad una certa altezza e viene fuori la figura divina di Gesù, bello, alto, con i capelli biondo scuri che fluivano sulle spalle, aperti nel mezzo del capo da una scriminatura. Aveva una tunica bianca di seta lucente, fermata da un cingolo ai fianchi, con due fiocchi d'oro che pendevano dal lato sinistro. Sulle spalle aveva un manto d'oro. Calzava un paio di sandaletti con una piccola suola e con le fettucce alla romana. Alle mani e dai piedi aveva le cicatrici, sopra il petto aveva il suo cuore sormontato da una piccola croce e circondato di spine. Dal cuore ferito usciva sangue e sporcava tutta la tunica bianca fino ai piedi. Si chinò verso di noi e si mise a parlare. Io pensavo che lo vedessero tutti, ma non capivo più in che condizioni mi trovavo. Mi disse Mi ami tu, figliolo? Sì, Gesù, che ti amo. Questa è l'impressione Sì, Gesù, che ti amo. Questo è bergamasco a livello chimicamente puro. Ci siamo? Va bene. Vabbè come espressione. Bene. Allora tu ama il tuo prossimo con lo stesso amore con cui ami me. Sì, Gesù, lo farò. Toccando col suo indice la ferita del cuore mi mandò un raggio di luce così potente che penetrò nella carne passando attraverso la veste talare, la camicia e la maglia. La nube si chiuse, Gesù disparve e io sentivo un calore in tutto il corpo, una gioia, una pace. Mi accorsi che andava scomparendo quell'appannamento che avevo sugli occhi e guardai intorno a me. Non c'era più nessuno in cappella. Questo è il resoconto che ha fatto, che è scritto della sua prima visione. Allora, io mi limito ad analizzare tutti quanti i particolari che vengono elencati. Il primo elemento è quello della nube bianca, bianchissima, e per adesso lascio da parte il colore. Mi limito alla nube, perché è uno degli elementi più frequenti nella Sacra Scrittura. e tenete presente che normalmente la nube appare come indizio della presenza del Divino. La prima e secondo me più importante vicenda in cui questo succede è quando, alla fine del capitolo 40 dell'Esodo, viene raccontata la messa in opera, se volete, della tenda, tabernacolo, tempio del popolo ebreo nel deserto, dove si parla allora la nube riempì la tenda del convegno e la gloria del Signore riempì la dimora. La nube dimorava su di essa e la gloria di Dio riempiva la dimora. Sul termine gloria ci sarebbe qualche cosa da da analizzare, perché il termine che designa la gloria in ebraico significa pesante. ci siamo e qualcosa di simile c'è anche incluso nel termine doxa, ma a prescindere da questo la cosa che mi interessa di più è che la presenza della nube è normalmente connessa con la teofania, la manifestazione di Dio. Ma la cosa strana è che in tutto l'Antico Testamento la manifestazione di Dio è una manifestazione in cui la presenza di Dio viene colta per dei segni, ma non viene colta direttamente dall'uomo. Allo stesso Mosè che chiede a Dio che gli venga mostrata la sua gloria risponde farò passare davanti a te il mio splendore e proclamerò il mio nome. Signore davanti a te farò grazie a chi vorrò far grazie eccetera ma tu non potrai vedere il mio volto perché nessun uomo può vedermi e restare vivo. Questa questione bisognerebbe che la leggessimo a confronto con quello che succede nel cenacolo durante l'ultima cena quando Gesù dichiara a Filippo poveretto lo trattava sempre male ma lasciamo perdere lo trattava sempre in maniera piuttosto brusca ma comunque dice Filippo chi ha veduto ah no per tanto tempo sto con voi e tu non mi hai riconosciuto Filippo chi ha veduto me ha veduto il Padre come puoi dire mostraci il Padre non credi tu che io sono nel Padre e il Padre è in me capite che c'è uno scarto qui cioè nell'Antico Testamento Dio dice tu non puoi vedermi no di fronte a Filippo che è convinto di non vederlo Gesù risponde chi ha visto me ha visto il Padre bene che è esattamente l'opposto ma l'opposto non è solamente quanto riguarda la visione di Dio ma è opposto quanto alla relazione fra l'uomo e Dio che rende possibile quel tipo di visione che abbiamo incontrato bene il punto cruciale è e adesso spero di non annoiarvi troppo ma versetto 12 del Prologo del Vangelo di San Giovanni è detto il verbo si è fatto carne e ha posto la propria tenda in mezzo a noi vorrei che fosse chiaro che è la tenda perché il verbo che viene usato è il verbo schenun schenoo che vuol dire porre la tenda piantare la tenda va bene ecco bene e quelli e noi vedemmo la sua gloria ci siete gloria come di unigenito del Padre sono passato al versetto 14 pieno di grazie e verità la cosa interessante è che questi due versetti che ho citato adesso sono al centro del prologo il quale all'inizio ha in principio il verbo e il verbo era non mi convince la traduzione presso Dio perché c'è un eis che è assolutamente dinamico quindi bisognerebbe parlare di verso Dio e l'ultimo versetto dice Dio nessuno ha visto mai un figlio unigenito che è pros ton colpon tupatros che è rivolto verso orientato verso il seno del Padre lui ce l'ha rivelato allora capite bene qual è il problema il problema è che viene descritto il verbo nella sua relazione col Padre e quel verbo instaura una sua relazione con noi che è la sua visibilità da parte nostra e il suo insediamento in noi ci siamo? allora questa cosa qui io credo che noi dobbiamo rammentarla regolarmente quando leggiamo la nube perché è segno veterotestamentario della teofania ma è completezza della teofania nel Nuovo Testamento pensate alla trasfigurazione dove si parla della nube aprendosi la quale vedono Mosè Elia e Gesù che parlano fra di loro credo che sia abbastanza utile rammentare tutto questo in connessione con quello che è detto nel secondo capitolo del Vangelo secondo San Giovanni dove si parla dell'entrata di Gesù nel Tempio della cacciata dei mercanti e distruggete questo Tempio e dentro tre giorni lo rialzerò dissero allora i giudei in 46 anni eccetera eccetera egli però parlava del Tempio del proprio corpo quando dunque fu resuscitato ai morti si ricordarono i discepoli che diceva questo e credettero alla scrittura e alla parola che disse Gesù qui secondo me bisognerebbe fare un affondo non piccolo sulla carnalità del rapporto dell'uomo con Dio che è a mio modo di vedere la cosa fondamentale della nostra vita cristiana e la meno capita prima dai cristiani e poi anche dagli altri ma gli altri sono scusabili noi un po' meno perché è realmente la proposta di Dio nella carne il Tempio Gesù lo dirà più di una volta è il suo corpo e per estensione noi bene per cui questa visione questa visione è secondo me è realmente emblematica perché è un corpo che gli appare un corpo che si manifesta come Dio un corpo che interagisce con il corpo di Don Elia ci siamo? perché? perché lo ferisce bene quindi è chiaramente la materialità di una presenza ci sarebbe un altro piccolo particolare da notare sulla nube io non lo so quanta dimestichezza voi abbiate con la nostra lingua ma se pensate per esempio che in latino nubes è termine che condivide la medesima radice di nubo sposare sposare nubzie eccetera e che in greco nün e fi di nymfe sono le consonanti che portano nefele nube e così via vi rendete conto che da sempre la nube è stata percepita come simbolo nuziale questo fatto si spiega da vicino primo il rapporto che Dio definisce come nuziale fra sé e il suo popolo e il fatto che di fronte a colui che diverrà il suo rappresentante anche se dovrà allungare il collo parecchio poveretto va bene si presenti con questo unito a questo simbolo l'altro elemento importante è che e qui siamo al richiamo ad esodo la nube si alza sopra il tabernacolo bene tentiamo di decodificare il colore bianco ma molto velocemente i testi fondamentali sono quelli che riguardano la risurrezione di Gesù nei quali sempre è presentato un personaggio o più che appaiono agli apostoli o ad altri che si recano al sepolcro che è regolarmente vestito di bianco quindi il primo elemento da fissare è il nesso fra il bianco e la gloria fra il bianco e la risurrezione ci siamo? e dopo questa cosa qui bisognerebbe fare un excursus che non finisce più sull'Apocalisse dove l'elenco dei personaggi vestiti di bianco è sterminato e normalmente sono personaggi che condividono la gloria della salvezza e quindi la simbologia si fonde chiaramente con quella della nube e viene trasferita nei tempi ultimi si fa per dire forse la più interessante perché la più chiacchierata è l'apparizione dei 144 mila che sono anche loro vestiti di bianco che costituiscono il cavallo di battaglia credo dei testimoni di Geova che lo tirano fuori in tutti i minuti ma i quali si dimenticano che l'Apocalisse non può essere presa alla lettera primo perché ad un certo punto si parla della tunica candida lavata nel sangue dell'agnello è improbabile per quello che ne so io che vivo da solo e mi faccio anche la lavatrice il rosso del sangue è il colore che sparisce meno facilmente quindi parlare delle tuniche bianche perché lavata nel sangue dell'agnello è difficile interpretarlo letteralmente ma anche il 144.000 non può essere interpretato così perché 12 per 12 per 1000 e 12 sono le tribù di Israele e 12 gli apostoli e 1000 è il numero della storia guidata da Dio quindi forse il significato è un po' diverso però questi qui sono comunque vestiti di bianco perché condividono la gloria dell'agnello che li guida poi bisognerebbe passare a questo punto alla tunica che viene irrorata di sangue vorrei vorrei citarvi un testo che è poco noto dell'Apocalisse vidi il cielo aperto ed ecco un cavallo bianco notate i colori e colui che siedeva su di esso era chiamato fedele e verace e con giustizia giudica e combatte poi notate indossa una tunica imbevuta di sangue ed il nome con cui è stato chiamato è la parola di Dio ci siamo quindi qui l'identificazione di questo cavallo cavaliere con Gesù Cristo è evidente ma la cosa che mi interessa è proprio questo particolare del sangue che esce dal petto di questo personaggio e irrora la sua tunica che è esattamente quello che abbiamo sentito raccontare da Don Elia durante la sua visione bene se mi consentite e credo di non essere irriverente Don Elia queste cose probabilmente non le ha mai lette è chiaro e questa questione è molto importante perché significa che il rapporto di nostro Signore con Lui era forse un po' più diretto di quello che ho io con Lui mediato dal testo perché non riesco a fare diversamente è chiaro? va bene passiamo ad un altro elemento particolare quella del colore dell'oro è difficile trovare tanti riferimenti come quanti ne ha questo elemento nella scrittura ma per esempio rimanendo prevalentemente sulla sull'Apocalisse pensate in mezzo ai candelabri della prima visione di Cristo in mezzo ai candelabri uno simile ad un figlio d'uomo vestito di una talare una veste fino ai piedi vestito di una talare e cinto al petto d'una fascia aurea e ancora e vidi ed ecco una nube sulla nube sedere lo stesso figlio dell'uomo ed ecco aveva nel proprio capo una corona aurea e nella propria mano una falce acuta eccetera poi c'è un passaggio per cui vorrei che voi ricordaste l'accenno che ho fatto prima alla simbologia anuziale della nube perché l'oro viene visto ripetutamente con riferimento all'agnello in generale e poi il medesimo colore viene ripreso nella descrizione della città celeste della nuova gerusalemme però questo passaggio dall'agnello alla nuova gerusalemme ha una mediazione nel mezzo ed è vieni ti mostrerò la fidanzata sposa dell'agnello e mi portò in cima a un alto monte e mi mostrò la città il che vuol dire che la città di cui si parla è la sposa dell'agnello a parte il fatto che qui ci sarebbe una cosina secondo me carinissima nel fatto che la chiesa quello che è viene definita nello stesso versetto una parola subito dopo l'altra viene definita sposa e fidanzata momento al tempo in cui Giovanni ha scritto come al nostro tempo al nostro tempo molto meno perché noi ci siamo evoluti ma comunque la fidanzata e la sposa individuavano due fasi completamente diverse del rapporto fra un uomo e una donna ci siamo? non lo so se tutti voi riuscite a seguire perché magari siete più moderni di me quindi potresti che confondiate ma comunque era così garantito così presso i greci così presso gli ebrei eccetera eccetera allora perché parla nel medesimo versetto di fidanzata sposa se non per proporci la sposa celeste come consistenza e giustificazione e giustificazione ultima della fidanzata che è la chiesa sulla terra ci siamo cioè la consistenza guardate che queste cose qui se dite il padre nostro qualche volta lo dite anche voi perché quando dite come in cielo così in terra state parlando di una realtà che è nel cielo e di una realtà che è nella terra la cui verità è quella di adeguarsi progressivamente è quell'altra verità ci siamo vabbè comunque andiamo avanti allora questa dunque abbiamo sistemato l'oro mi pare poi che cosa ah sì il passaggio dell'oro dallo sposo alla sposa cioè dall'agnello alla città adesso ci sarebbe un altro particolare quello dei sandali che è ancora collegato alla questione della sposa e dello sposo che è un po' ora che è un po' che è un po' che è un po' che è un po' Grazie a tutti.